finalmente arriva il primo acquisto in casa nerazzurra ovvero Lissandro Lopez per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni prestito con diritto di riscatto quindi assolutamente una grande mossa di Sabatini con dentro la saccoccia 0 euro perché ricordiamo che l'Inter non può acquistare per il momento nessuno per colpa del fair play finanziario dobbiamo rispettare certe norme ormai la sapete la la sinfonia che va da 5 anni a questa parte all'incirca quindi Sabatini sta facendo per ora grandi progressi perché sta quasi acquistando Rafinha sta quasi acquistando Ramirez sono molto molto vicini con 0 euro in saccoccia quindi grandissimo Sabatini e anche Ausilio ma più che altro Sabatini che sa fare bellissime mosse di mercato e molti hanno criticato questo Lissandro Lopez perché ultimamente non sta giocando tantissimo la sua carriera diciamo che non è un difensore da top club però io sinceramente mi fido di Sabatini visto che nella storia di Walter Sabatini ha fatto degli acquisti molto molto importanti che all'inizio erano scarsi poi si sono rivelati dei bellissimi e buonissimi giocatori quindi grandissimo Walter Sabatini sono molto contento si tanto contento ovviamente raga non viene a fare il titolare viene a fare il terzo o quarto difensore perché può diventare addirittura il quarto difensore visto che Ranocchia sta facendo benissimo però è quello che ci serviva anche perché io spero con tutto il cuore che lunedì sia da piano gentile e che si possa allenare con la squadra perché altrimenti tu sabato e domenica con la Roma devi giocare con Dalbert Santon Scriniar centrali e terzino destro Cancelo cioè Scriniar e Santon difensore centrali cioè Scriniar ok ma Santon difensore centrale contro la Roma vi prego no quindi speriamo che arriva il prima possibile e speriamo anche che Miranda e Ranocchia recuperino in tempo soprattutto Ranocchia perché era un contusione al costato mi sembra che era l'infortunio meno grave di quello di Miranda Comunque Lissandro Lopez che in questa stagione non ha fatto molte presenze mi sembra che si era fatto male non mi vorrei sbagliare comunque non ha fatto tantissime presenze ma è un ottimo acquisto è un ottimo acquisto sempre contato ragazzi che non abbiamo un euro in saccoccia e non ho ancora la storia che Suning non ha una lira con la storia che Suning al momento non può spendere perché Suning ragazzi ha un patrimonio di non si sa quanti miliardi che non è un problema spendere anche quei 80 90 milioni sul mercato non è un problema il problema grosso è questo per per finanziario che tu devi rispettare queste norme altrimenti ti multano i topi soldi non li spendi più per giocatori ma li spendi per darli a loro alla UEFA oppure ti multano ti fanno diminuire la rossa e sei costretto a vendere senza comprare lo dovete mettere in testa però dal canto nostro ovviamente noi interisti speriamo di acquistare qualcuno quindi se acquistiamo Lisandro Lopez non vi lamentate perché è un ottimo acquisto lo voleva la Roma l'estate scorsa mi sembra o l'estate questa sì l'estate scorsa mi vorrei sbagliare lo voleva la Fiorentina quindi non è un così cesso di giocatore anzi a me piace sinceramente a me piace poi se prendiamo Rafinha raga è sempre rotto sto d'accordo con voi però per il momento non ci possiamo permettere niente di meglio e Rami Ines nella sua storia è stato sempre un ottimo centrocampista duttilissimo può fare l'esterno può fare il trequartista quindi anche quello sarebbe un ottimo acquisto e sono tra questi che servirebbero io prenderei anche il quarto una riserva di scusate un raffreddore una riserva di Cardi perché probabilmente o Eder partirà o Eder rimarrà però una riserva di Cardi secondo me servirebbe anche perché se no ragazzi ricordiamoci che se i Cardi si fa male devi giocare cioè se il Cardi si fa male tre mesi sul resto della stagione devi giocare con Eder cioè titolare per andare in Champions non è che tanto eh comunque niente fatemi sapere cosa deve pensare nei commenti di questo acquisto primo acquisto dell'Inter di Sandro Lopez non ancora firmato ragama sono d'accordo su un tutto devo terminare gli ultimi dettagli burocratici qui da oggi è tutto lasciate un mi piace un commento iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e seguitemi su Instagram link sta in descrizione qui da oggi è tutto bella